Il naufrago Pietro Fanelli continua a far parlare di sé sull'isola dei famosi, questa volta per una nuova trasgressione alle regole delle reality show. Dopo il furto del cibo destinato a un cameraman, ora, è coinvolto in un'altra controversia riguardante l'utilizzo improprio delle risorse fornite dalla produzione. Dopo aver utilizzato le pergamene fornite per scrivere delle poesie, per alimentare il fuoco, la produzione ha deciso di intervenire, con un provvedimento disciplinare severo. Nonostante la delusione dello spirito dell'isola, Pietro non sembra pentito delle sue azioni e ha difeso la sua scelta. Secondo Fanelli, sacrificare due pomodori della ricompensa promessa non è un grosso problema, poiché gli ha permesso di cucinare il riso rubato e di avere la forza per scrivere. Ha affermato di non essere capace di gestire il fuoco e di essere un completo idiota per utilizzarlo, ma ha sostenuto di aver fatto una buona scelta nel priorizzare il cibo rispetto alla poesia in quel momento. Con il suo comportamento controverso e le sue dichiarazioni provocatorie, Pietro sembra distinguersi sempre di più dagli altri naufraghi, rendendo la sua permanenza sull'isola dei famosi simile più a un episodio del collegio che ha un reality show.